Si è svolto questa mattina a Giarre il vertice tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti della Dasti, ditta che gestisce il servizio rifiuti, al fine di programmare la raccolta differenziata che dovrà partire nei prossimi mesi. L'avvio della differenziata avverrà, come per gli altri comuni, prima per le utenze non domestiche, poi per le utenze domestiche. Discussa anche la distribuzione dei kit che sarà programmata per zone, probabilmente in base ai seggi elettorali, mentre i sacchetti potranno essere ritirati solo ed esclusivamente dal titolare dell'immobile. La Dasti ha anche proposto una bozza di calendario per la raccolta dei materiali differenziati. Tutto verrà stabilito a prescindere dall'esito che avrà ad aprile l'udienza del TAR, che potrebbe decidere di riconsegnare l'appalto alla TEC Servizi. Nell'eventualità, infatti, la TEC dovrà adeguarsi a quanto sarà predisposto in questi giorni.